Ultima puntata per questa stagione di terza pagina e ovviamente augurandovi buone vacanze non possiamo non segnalarvi qualcosa da portare con voi e ovviamente dei buoni libri e allora partiamo da quella che è la destinazione più frequente, vale a dire il mare e con un tuffo non soltanto reale ma anche metaforico nel vostro passato vi proponiamo l'Isola del Tesoro, un classico dei classici, uno dei più bei romanzi mai scritti, la storia di Jim Hawkins, una mappa del tesoro, un tesoro da trovare e come canta appunto come recita della canzone 15 uomini sulla cassa del morto, insomma se avete voglia di avventure un po' vintage questo è il libro che fa per voi e se volete rimanere in tema di mare e di pirati per iperborea dalla magnifica penna di Bjorn Larson c'è la vera storia del pirata Long John Silver, l'autore svedese immagina quello che è successo dopo e vale a dire la vita successiva di uno dei più grandi truffatori, uno dei più miserabili, adorabili eroi usciti dalla penna di Stevenson e sicuramente uno dei personaggi più ambigui della letteratura di tutti i tempi, magnificamente più ambigui vorremmo dire. Ci spostiamo in montagna, in questo caso non abbiamo un classico ma un romanzo recente, lo scorso anno nel 2017 ha vinto il premio strega, parliamo di Paolo Cognetti e delle sue otto montagne, un romanzo che riconcilia con quella capacità che ha la letteratura di estrarre dalla vita, dalla vita vera, dalla realtà, dei momenti, delle sensazioni ma anche dei ricordi che vanno a pescare proprio nel nostro immaginario, lì in fondo, in fondo dove le cose reali che quindi si possono toccare come l'esperienza di quei boschi, di quella montagna, di quei materiali, riescono ad avere un valore simbolico, quindi le otto montagne per Einaudi di Paolo Cognetti. Ma non è soltanto la montagna, non è soltanto il mare la meta ideale di chi sceglie appunto di passare un periodo di vacanza, c'è anche chi preferisce le grandi città e magari spostarsi all'estero. E allora, la Villa Lumière, la città considerata all'avanguardia dell'Europa e molto spesso anche del mondo, vale a dire Parigi, ritratta dalla penna dolce, delicata e sensibile di Philippe Delerme. Tra i tanti suoi romanzi, ricordiamo il grande successo della prima sorsata di birra, vogliamo proporvi oggi Innamorati a Parigi, uno sguardo malinconico, una penna dolce, un amore forse impossibile, forse perduto per sempre e i luoghi che hanno fatto grande Parigi, anche e soprattutto quei luoghi più intimi come può essere la fermata di un metro. Ci spostiamo, andiamo invece molto più verso est e andiamo a pescare forse anche nel passato, in questo caso un grandissimo classico, La Marcia di Rodeschi di Joseph Roth, un libro che ci riporta alla grande Vienna, alla Vienna del fine del secolo 1800, all'inizio del 900, la Vienna della corona austriaca e con il suo fascino gravido di storia e di eventi che stanno per accadere, che stanno forse per cancellare il mondo di ieri, ma è un mondo di ieri per chi si ericherà anche oggi nella capitale viennese che rivive meravigliosamente ad ogni angolo della città e non soltanto nei suoi musei. E allora, buone vacanze, buone letture e noi ci si rivede a settembre.